Mario Balotelli va a difendere il caro amico Francesco Facchinetti, il quale Francesco Facchinetti vi ricordo che di recente avrebbe ricevuto un pugno nelle labbra da parte di Conor McGregor, il famoso lottatore di MMA. Ed ecco che lo stesso Super Mario, Mario Balotelli insieme al fratello Enoch, ha pubblicato un post su Instagram con tanto di frase, no alla violenza, andando poi a taggare l'account ufficiale di Francesco Facchinetti. Insomma, è un gesto di, chiamiamolo, di vicinanza, un gesto di grande vicinanza, quello che Balotelli va a compiere nei confronti del caro amico Francesco Facchinetti, per prendere ovviamente le sue difese. Quindi è una condanna ferma alla violenza in primis fisica ma anche verbale, che può esserci da parte di qualsiasi persona. Dunque, il gesto compiuto da Conor non è piaciuto ovviamente a Balotelli, a Mario Balotelli. Detto ciò, grazie a tutti utenti di YouTube, il video termina qua, un saluto caro da Reandro, narrativo italiano, al prossimo video.